Svoltasi a Cosenza che è giunta al termine. Ottima l'affluenza dei visitatori. Vediamo i servizi di Massimo Maneggio e Rossello Docimo. La festa del cioccolato che si è svolta nei giorni scorsi nel capoluogo cosentino è ormai diventata un classico che coinvolge e attrae un po' tutti. Anche quest'anno numeri da record per la Kermess che nel centro di Cosenza ha saputo canalizzare il meglio dell'artigianato gastronomico. Organizzata dal comune di Cosenza, dalla CNA del presidente Francesco Rosa eletto peraltro nei giorni scorsi per quanto riguarda gli organi nazionali nonché da altri enti ed associazioni, l'evento si è svolto in un clima di feste di golosità collettiva. Certo, qualche remora per i prezzi un pochino elevati è stata rilevata dal pubblico ma portare i professionisti del settore un po' da tutta Italia significa anche offrire un livello di grande qualità per gli stessi fruitori. La città di Cosenza ha così accolto un incredibile flusso di visitatori nei giorni scorsi proveniente oltre che dai tanti paesi della provincia cosentina anche dalle altre zone geografiche della regione. Una fiera evento dunque che diventa anno dopo anno sempre più appetibile è il caso proprio di dirlo. Quindicesima festa del cioccolato ottima affluenza di visitatori Corso Mazzini invasa da persone provenienti da diverse regioni per gustare un buon cioccolato artigianale. Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione che si svolge come di consueto su Corso Mazzini. Quattro giorni non solo dedicati alla cioccolata e a varie degustazioni ma anche a spettacoli e animazione. Di dove siete? Io personalmente di Cosenza e i miei colleghi sono di Lecco. Di Lecco? È la prima volta che venite qua a Cosenza? Sì, sì. Cannoli siciliani? Cannoli siciliani, sì, buonasera. Veniamo da Giarra in provincia di Catania. Li riempiamo al momento e li facciamo come si vuole con la ricotta di base, poi pistacchio, cioccolata, canditi o come uno preferisce. Che stai mangiando di buono? Buffer al cioccolato. Com'è? Buono. Vi state divertendo? Sì, sì, molto. Siete qua di Cosenza? No, un paesino qui vicino, San Lorenzo del Valle. Sì, è la prima volta quest'anno. Che hai comprato di buono? Cos'hai assaggiato? Fino adesso siamo arrivati da poco, abbiamo assaggiato solo i ravioli al cioccolato. Ed erano abbastanza buoni. Anche voi alla festa del cioccolato? Da dove siete? Noi siamo di Zumpano, giochiamo in casa come ogni anno. Ogni anno presenti? Ogni anno presenti, sempre, dalla prima edizione fino ad oggi. Come sta andando questa quindicesima festa del cioccolato? Sì, no, diciamo che sta andando bene, anche perché il tempo è giocato dalla nostra parte e poi comunque abbiamo avuto anche un giorno in più, per cui la gente, insomma, è stata forse anche avvantaggiata per questo. Cosa stai preparando? Allora, il vaffellino. Praticamente sarebbe una ricetta ideata da Garritano, che è un misto tra pan di spagna e waffle. Caldo, ricoperto di cioccolato, come vedi, fondente al latte, con cocco e granella di nocciola. Una grandissima golosità. Spiedini di castagna? Castagna già sbucciata, ricoperta di cioccolato, oppure cioccolato bianco, cioccolato nero. Grazie.